Domenica 15 settembre era il primo giorno del calendario venatorio laziale. A pochi giorni dall'apertura è arrivato già il primo incidente. È successo a Marcellina, provincia di Roma, dove un uomo di 73 anni è rimasto gravemente ferito durante una battuta di caccia. A intervenire i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpineo Speleologico su un'eliambulanza della regione Lazio. A bordo un medico e un infermiere. L'uomo è stato trasportato al Policlinico Gemelli. Sul posto anche carabinieri, 118, protezione civile e vigili del fuoco. All'arrivo dei soccorsi l'uomo era in condizioni critiche. Secondo le prime informazioni sarebbe stato raggiunto da un proiettile. Le operazioni di messa in sicurezza dell'uomo sono state rese più complicate dalla vegetazione fitta e dalle condizioni del terreno. Sul fronte del regolamento per questa stagione venatoria rispetto allo scorso anno c'è qualche novità significativa. Niente caccia alla tortora. La Commissione europea ha chiesto una sospensione temporanea del prelievo. Nessuna chiusura posticipata a febbraio per il colombaccio. Chiusura per la caccia alla beccaccia riportata a fine gennaio. Per il resto il calendario è invariato. Il cinghiale sarà cacciabile a partire dal 2 novembre. La chiusura resta al 31 gennaio sia per gli acquatici che per i turdi. Di resta in calendario anche il moriglione con un detto massimo di 834 prelievi.